La stessa miniato, appena fuori la porta Serridolfo, sulla strada che conduceva verso Pisa, si trovava un tabernacolo con un piccolo affresco raffigurante l'Annunciazione e, vicino ad esso, l'oratorio dei confratelli della Compagnia dell'Annunziata. Questa era una compagnia di laici fra le più antiche e ricche di Samminato, che si era costituita all'inizio del Trecento presso la chiesa di Santi Jacopo e Lucia, prima che vi operassero i Dominicani a partire dal 1329. Da un documento di mano di Piero di Lorenzo Gucci, scrivano della compagnia, datato 27 aprile 1542, si ricava che i confratelli decisero di spostare la propria sede dalla chiesa dei Dominicani e di stabilirsi fuori porta Serridolfo, dove la costruzione dell'oratorio venne ultimata nel 1383. Il ruolo della compagnia era quello di accogliere e assistere i poveri e pellegrini. Nel 1407 vennero ampliati gli spazi dell'ospizio, acquisendo le case limitrofe di proprietà dei frati di San Francesco. Nei primi decenni del Cinquecento, i confratelli dell'Annunziata accolsero i monaci agostiniani della chiesa di Santa Caterina del Terziere di Poggi Ghisi, ai quali donarono il loro oratorio e un terreno su cui poter costruire un convento. Il 24 giugno 1522, i religiosi agostiniani cominciarono i lavori per trasformare l'oratorio nella chiesa che vediamo ancora oggi, utilizzando il materiale di recupero proveniente dalla demolizione di mura cittadine. Grazie ad un lascito testamentario, nel 1552 fu possibile edificare la loggia e il rifettorio del convento. La compagnia mantenne la propria sede fino agli anni Sessanta del Seicento, quando, anche a causa di contrasti tra gli agostiniani e i confratelli, venne iniziata la costruzione di una nuova chiesa sul lato opposto della strada. Nel 1641, i membri della Compagnia dell'Annunziata avevano chiesto di entrare a far parte della Compagnia del Riscatto di Roma, la quale si adoperava per la liberazione degli schiavi dai mori. I membri della Compagnia del Riscatto San Minatese avevano una croce rossa e celeste, cucita sulla spalla bianca. Per questo motivo la nuova chiesa, costruita fra il 1660 e il 1668, prese il nome di Chiesa della Crocetta. I confratelli lasciarono la chiesa dell'Annunziata agli agostiniani e si trasferirono nel nuovo edificio. Due importanti famiglie sanminiatesi, i Grifoni e i Roffia, esercitavano il patronato sulla chiesa dell'Annunziata. Per questo motivo, verso la metà del Seicento, Niccolò e Roffia finanziò importanti lavori per gli abbedimenti della chiesa. Tra il 1657 e il 1663, in particolare, venne risanata la Cappella Maggiore, dove fu realizzato il nuovo altare e i rivestimenti in pietra della gonfolina. Sotto l'altare fu collocata, nel 1663, la reliquia del corpo di Santa Dorotea Martire, che Niccolò e Roffia aveva fatto riacchiudere in una cassa di cristallo. Nello stesso periodo, l'affresco dell'Annunciazione venne collocato sopra l'altare maggiore per meglio conservarlo. Nel 1683, dopo la visita pastorale di Monsignor Cortigiani, venne innalzato il campanile e vennero risistemati la facciata e il coro. La chiesa così ristrutturata venne nuovamente consacrata dal vescovo Poggi nel 1709. Nel 1735, ancora con il contributo della famiglia Roffia, venne alzata la cupola, decorata e abbellita da Giovanni Ridolfo Frullani e Anton Domenico Bamberini. Nel 1765, la cupola venne dorata. Nel 1783, per ordine del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, venne soppressa la compagnia del riscatto e la chiesa della Crocetta divenne una parrocchia. Successivamente, in età napoleonica, gli agostiniani furono costretti ad abbandonare il convento e, nel 1817, il titolo di chiesa parrocchiale passò dalla ex Crocetta alla chiesa dell'Annunziatina. Grazie a tutti!